Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Dragon Rex e siamo qui con un nuovo episodio di Final Fantasy VII Remake. Allora, avevamo fatto la conoscenza di Kili, il quale ci ha dato praticamente delle missioni, andiamo un po' a vedere, eccole qua. Abbiamo delle missioni alla ricerca dei Chocobo, ce ne manca uno da trovare, abbiamo già compiuta una di missione, abbiamo tesori nascosti, anche questa dobbiamo andare avanti, e Manolesta. Abbiamo più o meno altre cinque missioni, ma noi a questo punto andremo da Chadli, perché se non sbaglio ho completato un fascicolo, quindi magari ci darà qualcosa di nuovo. E torniamo indietro, lo faccio così perché abbiamo la materia podistica, quindi dobbiamo raggiungere i 5.000 passi. Qua c'era l'altro Chocobo, e attenzione qua. Andiamo con catena rapida. Ok, Kif è salita a livello 26. Ottimo. Proseguiamo. Continuiamo ad andare indietro. Altri nemici. Vai con catena rapida. Ottimo. Ok, torniamo sui nostri passi. Ok, bene. Bene così, siamo tornati alla stazione. Allora, abbiamo delle zone che ancora non abbiamo visto, tipo questa, dove poter trovare le varie cose. Quindi cerchiamo di andarci. Cerchiamo di andare nelle zone che non abbiamo ancora controllato. Allora, vediamo un po'. Sì, quindi da questa parte, tipo. Qui non ci siamo stati, quindi magari troviamo il Chocobo e completiamo quella di missione, di incarico. Stato qua, ci sono delle casse e dei nemici. Vai con catena rapida. Ok. Ok. Abbiamo sconfitto anche loro. Vediamo se qua troviamo qualcosa. Attenzione, altri nemici. Bene, vediamo un po' qua cosa c'è. Vediamo qua. Da qua non si può andare. Andiamo da questa parte. Solo delle casse, ok. Quindi qua non c'è nulla. Torniamo indietro. Ok. Ovviamente poi vedremo anche... Mi va da questa l'altra parte che ancora non abbiamo controllato. Cerchiamo di controllare tutto al meglio. Attenzione, altri nemici. Allora, un attimo solo. Ok, volevo controllare una cosa, non mi hanno dato il tempo. Qua non c'è nient'altro. Proviamo a salire. Andiamo di qua. Intanto abbiamo raggiunto i 3000 passi. Ottimo. Vediamo qua dove stiamo andando. Ok, qua ci sarebbe un'altra zona. Stiamo tornando sempre sui nostri passi. Va bene così. Tra l'altro, l'altro Chocobo... Vorrei capire dove si è andato a nascondere. Noi continuiamo. Oh, qua c'è un nemico. Allora, facciamo un po'... Non c'è la Cloud. C'è la Barrett. Analisi finale. Ok, non c'è nulla. Andiamo con... Controordine. Ok, stiamo di lontani perché c'è la deflagrazione. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Andiamo di là. Però di là ci eravamo già andati, quindi... Scusa Barrett. Andiamo da questa parte. Qui? Ah, ok. Mi sembra che non ci fosse nulla qua. No, c'è qualcosa. C'è un baule. Non l'avamo visto, questo baule. Vediamo un po'. Ok, la posizione... La strada è giusta. Di qua non si può andare. Allora, di là non possiamo andare ancora. Quindi, quale altre zone ci sono rimaste ancora da esplorare, sostanzialmente? C'è tutta questa vasta zona. E ci sta anche questa zona. Quindi, andiamo. Oh, i draghi. Allora, facciamo... Un controldine. Andiamo con l'iva con essa. Andiamo con il posizione. Vai su di lui. Vai con controldine. Ok. Abbiamo sconfitti. Qua c'era anche l'altro Chocobo. Allora, qua ci sono delle zone che... Non avevamo riesplorato. Quindi andiamo qua prima. Ecco qua, ovviamente no. Dobbiamo andare prima qua. Qua non c'è nulla. Perfetto. Saliamo. Ok, giusto per vedere. Poi è rimasta un'altra zona, mi sembra, da esplorare. Vediamo se c'è qualcosa qua. Non penso, sinceramente. Infatti, non c'è niente. Quindi possiamo anche proseguire. E cercheremo di andare in questa zona. C'è anche qua un po' di... Vabbè. Andiamo. Ok, là non c'è niente. Vediamo un po' come siamo messi. Vediamo un po' di energia a Cloud. Ok. Allora. Visto che ci siamo. Qui c'è la base segreta dei bambini. C'è tutta la zona dei bambini, quindi, da esplorare. E noi ci andiamo. Tanto dobbiamo andare da quella parte. Andremo anche a vedere se c'è Cedri. Per vedere la questione fascicolo. Vediamo un po'. Eh... Sì, però io avevo fatto un fascicolo, no? Niente, non ce lo dà. Allora... Allora... Va bene. Allora, io avevo fatto un fascicolo, un dossier, l'avevo completato. Questo ancora no. Questo l'avevo completato. E anche questo. Vabbè, torneremo successivamente. Andiamo dai ragazzi. Vediamo un po'. Dalle loro parti. Che ancora non abbiamo esplorato. di niente, vediamo... Oh... Non piccassi è più difficile. Oh. Ok. Ok. Ah, devi trovare più bravi. Non piccassi è più difficile. Ehm... Rompicassa normale. Difficile. Allora, al momento non... Vengo dopo, perché voglio prima vedere qua cosa c'è. Ehm... Ecco, già dalla musica... Prevedo... Prevedo... Momenti... Non tanto buoni. Vediamo un po'. Cosa possiamo trovare qui. Osserviamo tutto per bene. Controlliamo tutto. Anche perché stiamo cercando l'altro ciocobo... Che ancora non riusciamo a trovarlo. Non è neanche qui. Qua avevamo fatto... Un combattimento in passato, ma... In questo giro sembra non esserci nulla. E quindi... Lo abbiamo bottonato tutto. Non c'è nulla. Niente, mi aspettavo di trovare qualcosa da queste parti, però... A quanto pare... Non c'è nulla. Allora, a questo punto, visto che... Comunque abbiamo... Controllato gran parte della zona... Il ciocobo non so dove sia, onestamente. Allora, vediamo un po'. Penso che abbiamo controllato più o meno tutto di qui. Ci manca questa zona, però il ciocobo, l'ultimo... Non riusciamo a trovarlo. Eh no. Allora, facciamo il rompicasse, visto che... Che ci siamo. Ok, facciamo quello difficile. Allora, il punteggio minimo... Un elisir, 20.000... Amuleto, 3.000 convertitore... 30.000... Quindi 10, 20, 30... Una medaglia. Proviamo, ragazzi. Vediamo un po' come ci va. Allora, vediamo un po' come ci va. Allora, facciamo un po' come ci va bene, certi... E' unøbito. Allora, facciamo un po' come ci va. Allora, facciamo un po' come ci va. ok dai non è andata bene non è andata bene ok lo rifacciamo però lo rifacciamo ok abbiamo preso una medaglia rifacciamolo ecco 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 12.000 e 5. Poi magari la continuo off camera e niente. Vabbè non fare così comunque abbiamo fatto già qualcosa. Allora proseguiamo. A questo punto torniamo via di qua perché non c'è nient'altro. Vediamo un po' dove andare. Anche perché ci mancano sempre i ciocobo. Diamoci una controllata da queste parti. Tanto siamo avanti a 4.000 passi. Buono... Una cosa buona e giusta. Oh qua c'è il dottore. Un medicinale. Ok, dicci cosa ci serve. Ok. Medicinale segreto. Medicinale segreto. Tesori nascosti. Manoletta medicinale. Ok. Ok. Ok, visto che qua in questo settore non c'è altro... Direi che possiamo anche cercare di andare nell'altro settore. Quindi andiamo. Vediamo un po' di andare nell'altro settore. Ciocobo, peccato, non l'ho trovato ancora. Chissà dov'è. Oh, qua c'è una cassa. Attenzione. Bracciale Dimitril. Addivittura. Ok, qua... Qua c'è il nostro caro amico. Qua non c'è niente. Da qua... Non c'è nulla. Allora, vediamo un po'. Recuperiamo un po' di punti nel frattempo. Un po' di punti salute. E vediamo magari di andare nell'altro settore. Ci mancano quattro missioni da trovare. Me l'abbiamo completata solo una fino a questo momento. Quindi torniamo da questa parte. Magari ci esce l'altro ciocobo. Eccoli qua. Vai con la cassa da vapida. Ok. immagino che dovremo riaffrontare nuovamente vai con l'iva funesta ok andiamo andiamo proseguiamo proseguiamo la strada cerchiamo di di qua si torna la chiesa allora vediamo un po' tangenziale è crollata ok è una strada abbastanza lunga allora dobbiamo trovare la strada per andare di là dobbiamo trovare la strada che ci porta a settovecinque visto che allora qua c'è la fermata che la prendiamo vediamo un po' andiamo qui andiamo qui andiamo qui vediamo un po' il nostro passaggio che ci danno andiamo verso i settovecinque anzi verso i settovesei se non sbaglio vediamo un po' vediamo un po' ragazzi perché comunque qui non abbiamo trovato granché vediamo se in l'altro settore visto che abbiamo esplorato un po' tutto da quelle parti riusciamo a trovare le altre missioni quindi andiamo avanti ok allora di regola quindi per andare nell'altro settore dovremmo andare da questa parte giusto? si andiamo vediamo anche se su questa strada troviamo il ciocobo l'ultimo che ci mancherebbe tra l'altro ok proseguiamo allora andiamo un po' da qua proviamo a fare il giro di qua oh da qua si entra però non c'è nulla fu così fu così che rimasi intrappolato o no ok grazie ottimo ci ha dato un brano proseguiamo allora allora qua siamo arrivati vicino al mercato coperto mercato murato non mi ricordo ok perfetto allora qua attenzione c'è la nostra ma ma da ma da me o no non so non so non so ora non so non so non so non so nezmi non so Non è così. In WALMARKET, anche il corneo dei bambini che abbandonati un po' di svolte avvalanci. E' un po' di svolte un po' di... E' un po' di svolte. Che fanno. E' un po' di svolte. Il corneo dei bambini che svolte avvalanci. Ma se non c'è il tuo lavoro, ma adesso avrà un'esercizio di amici, quindi non c'è nessun valore. Non c'è nessun lavoro, ma non c'è nessun altro lavoro. Il mio amico ha visto un uomo di 10 uomini a 5.5, ma c'è una proposta di un'esercizio 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 di un'esercizio. Ahia, la casa di a vetta. non adesso però non adesso allora vediamo un po' qual è questo allora scagnozzi all'opera allora ragazzi siamo arrivati qui vediamo un po' cosa ci comporterà qua cosa ci abbiamo oh qua ci abbiamo il ciocobo qui la missione di mano lesta allora noi ci finiamo con la forza del ciocobo vediamo un po' vediamo qua cosa c'è innanzitutto se c'è qualche sfera qualche materia interessante si cosa c'hai materie non è che c'hai molto abbiamo tutto ok è stato un piacere andiamo andiamo perché forse siamo siamo vicini al ciocobo intanto la materia è diventata una materia evolutiva attenzione equipaggiamento materie evolutiva aumenta la quantità di punti ottenuti dalla materia associata 100% oh questo è interessante questo è molto interessante allora io a questo punto vediamo un po' tifa cosa c'ha la via animante galvanica graciale aerea ardente limitante meditativa quindi bisogna associarla allora lo vedremo dopo tanto per adesso lo vedrò dopo tanto per adesso ci serve in minima parte da qua si va da un'altra parte di qua anche io voglio andare a prendere il ciocobo che dovrebbe essere da questa parte ce ne manca uno nella tangenziale crollata ok tangenziale crollata dov'è la tangenziale crollata dovrebbe essere dovrebbe essere da queste parti e infatti ok allora allora ragazzi noi per questo episodio ci fermiamo qui cercheremo di completare il ciocobo nel prossimo episodio e di raggiungere di completare anche le altre missioni sostanzialmente le abbiamo prese ce ne mancano tre da prendere una due e tre e poi cercare di completarle questa è quasi compiuta questa invece no poi abbiamo il medicinale segreto e queste altre che ancora non abbiamo fatto quindi ragazzi se vi è piaciuto l'episodio lasciate un like e iscrivetevi al canale noi ci vediamo ovviamente al prossimo episodio di Final Fantasy 7 Remake ciao a tutti ragazzi